Allora, io sono il canzone che ho fatto un pito le pagine di Precu, ho rischiato di essere pannato e ci sono i cittadini, però ce l'abbiamo fatta, la spiace ci ha arremato tutti incontro quindi è stata veramente dura, faccia vedere, ma ce l'abbiamo fatta, però ho cominciato tutti i ringraziamenti, quindi ringrazio tutta la gente che sta lavorando qui dentro, quindi tra i ragazzi della sicurezza, i paesi, i ritornati, sono tutti gratis, che sia chiaro, nessuno ha percepito il nero, quindi un applauso di merito, tutta la gente che sta lavorando qui e un grande applauso che fa per i cristi che sono là, che se la passa veramente di merda e quello che state vedendo in tv non è la realtà, c'è una mia dica di Tescara qui in giro, che ha ascoltato che non è ancora arrivata l'acqua calda, i ragazzi sono sotto il vento, è stata veramente di merda, questa è la realtà, quindi voglio anche ringraziare il resto del resto della barna, la gente che ha collaborato con me, quindi Barbarina con il metro, che è la Campa Wilders per eccellenza, connessa in rete 20 ore al giorno, non so solo il cazzo come va, l'abbiamo fatta capito, Barbara, potete con lo San Geralberti, Laura Baccani, Marco Zanolini, Astri, Andrea Del Pozzo e un sacco di altra gente, e poi il passo alla Policoli, a non cazzo, 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 subito dopo Daniele Meto, applauso, a star le proguitet, le mani, le mani, le mani, che mi libera! E' un nuovo palco! E poi mi faccio quello di essere detto dalla consorzio che abbia ancora saputo paura. Comunque, come stai? Pinta per me! Se vado a noi, ti stiamo spessando? Allora, io! E' un pito che fai convostato su Marco Marconi, su questo che mi mi sono assoluto. Grazie a tutti! Gliocco, giusto? Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!